Ciao a tutti ragazzi, io sono LerlofG98 E questo qui alla mia fianco è un Enderman E io oggi lo uccide... E io oggi lo ucciderò, io ho quel pallino rosso laggiù Perché voglio uccidere l'Enderman ragazzi Perché mi servono le Enderperle Me ne basta una sola, non c'è bisogno di... Di darne troppe Ma dov'è? Ragazzi, è sparito l'Enderman Ma è sparito l'Enderman Quello puntino rosso lì No, quello è l'albero della Taumocraft Ah già, a proposito, ne ho ucciso un altro di quegli alberi E mi ha droppato un altro cuore Lì c'è un altro Uncora Niente ragazzi, mi è sparito l'Enderman Uh Creeper Haha, creeper Mi ero aggiustato la spada proprio in occasione del fatto che volevo andare a uccidere l'Enderman Eh, l'Enderman non c'era Bella Ah, quindi io direi di turn up verso casa Poi ho messo questi due blocchi di modo che uno possa fare così Uh, gli scorpioni Non mi hanno visto Così e atterro direttamente di qua Anche se sta coltivazione andrebbe un attimo rivista Perché ci possono saltare i scorpioni qui sopra e la smontano Eh già Ragazzi, tutto questo è partito da soli tre Flax Seeds Cioè, vi rendete conto Cioè, ma vi ne rendete conto Soltanti Tre Flax Seeds e ho fatto sto casino qua Madonna Quanto sono fu? Ma ragazzi, sono i Flax Seeds che sono un po' qua Cioè, non hai questi crocchi Voglio vedere se me le brucia sto coso qua Madonna mia A me non serviva una qualcosa, no? Bruciate Le metto qui Questa bella cesta Allora ragazzi Oggi non so se fare un po' di towncraft Oppure se Fatemi pensare cosa c'ho da fare Allora ragazzi, oggi dobbiamo ritornare nel Nether Perché dobbiamo ritornare nel Nether? Perché non ho preso la Soul Sand Sono andato nel Nether e non ho preso la Soul Sand È stato un grande sbaglio Non so Aiaiaia, aiuto, aiuto Bene, godo Madonna Ma hai fatto spaccare la crafting table Ma hai fatto spaccare la crafting table Ma hai fatto spaccare la crafting table Due Ecco, la crafting table Due Ecco Ti ripigliate la zappa Allora, le frecce, i semi e il grano vanno qui Ui ragazzi, quanto grano Allora Allora, ci facciamo lì panini Otto Allora, vabbè, otto panini Sono mica pochi Allora ragazzi, io stavo pensando una cosa, no? Tutti quei flux seeds, no? Prendiamo uno stack di filo Ce lo bruciamo Decisamente sì Poi ci prendiamo anche questa sabbia Una, basta E 62 fence Questi arboscelli Ne lasciamo due, è giusto perché sì Il furia è sempre là su Allora E 80 Madonna ragazzi Il filo quanto vale Aspettate, eh Allora Filo vale 12 Eh, 768 Allora Oggi Dobbiamo ritornarci nel nether E farci Allora, è stato Raccogliare la gomma Ho ripiantato tutti gli arboscelli Come potete vedere ora che Raccolgo soltanto due volte La gomma si respawna Guardate Due volte Basta Tutte le altre volte non si respawnava E finalmente l'ho capito il tutto Allora, oggi torniamo nel nether Ci andiamo a fare Nascia perché l'abbiamo finita 9 Tanto non ci serve E torniamo nel nether E E poi prendiamo la soul sand Poi Facciamo con la soul sand La facciamo Gliela impariamo A quella A quel tavolo lì Della Trasmutazione Ragazzi lo so che si dice Gliela insegniamo Quell'arbocelli lì Non cresce perché c'era troppa roba Quintorno Bene insomma ragazzi Gliela impariamo E poi gli facciamo Che gli facciamo Trasmutare Magari ne prendiamo Altra nether Se non lo so Guardate Si è già rispawnata Guardate Che bello Ciao Se lo guardo con la spada Si dovrebbe incazzare Guarda è bellissimo Scusate 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 E non mi attacca È bello Poi dopo Lo facciamo Cader di sotto E li facciamo Fare male È bellissimo Ragazzi Sta cosa Insomma Allora Ritorniamo A fare le nostre cose Guardate La gomma c'è Un'altra volta La gomma c'è E qui non faremo Nient'altro Che raccogliere La gomma Pensate voi In uno dei prossimi episodi Faremo la towncraft Ragazzi O in questo O in uno dei prossimi Sicuramente Ragazzi Faremo la towncraft La towncraft È poi una bella Mod È molto carina Devo dire Con tutte Quelle macchine Restrande Infuser Duplicator Cioè tutti Così Così strane Molto bella Molto bella Mi è piaciuta Dall'inizio Aia Che male Hai visto Con che velocità Spacca la terra Stufosa Vabbè dai L'alberi Li facciamo Un'altra volta Allora Lasciamo qui Il tree tap E la ranch Quattro carboni Li mettiamo lì Gli arbocelli Li teniamo lì Allora No Queste gomme Le legni Li faremo Un'altra volta Allora Mettiamo Dentro Quanto vale Questo Antico Te Stai lavorando Sì Bravo Voglio vedere Quanto vale Questa gomma Questa gomma Questa legna E 32 ragazzi 33 ragazzi È parecchio Diciamoci Vai E così Abbiamo fatto Anche Quest'altra La cosa Allora Il diving road No 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 Ce lo teniamo Va bene ragazzi Ce ne andiamo Nel nether Allora Equipaggiamoci Di Robo Da mangiare Secchi Boh Non si sa mai Portiamo Della lava Ne portiamo Due di acqua Certamente E ci incamminiamo Verso Il nether Allora Andiamo Subito Subito Uno Due C'è ma Voi lo sapete Che Pure Nel nether Ci si può Spawnare I villaggi Della mille Credo Di sì Allora Figliamo No E dai Minecraft Smetti Di laggare Smetti Subito Dai Minecraft Smetti Di laggare Dai Minecraft Ok Si sta Riprendo Ok Si è ripreso Che poi Non capisco Perché La millenerme Fa sti brutti Scherzi Allora Attenzione Redstone Non esplode Allora Ho visto Anche Della Tin Nessuna Di questi Sembra Esplodere Ok Ok Allora 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 Qui Altra Rattenta Rattenta Raccoglio Allora Dobbiamo stare attenti Ragazzi A non raccogliere Il materiale Proprio Appena Sta per esplodere Perché se lo raccogliamo Appena sta per esplodere Che non c'è rimasto niente Intorno Quindi non esplode Ci ridarà indietro Un blocco Che non è utilizzabile Né con la crafting Via 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 Non è utilizzabile Né con la crafting Ragazzi Pensate un po' voi Neanche E dai Finita la corrente Ragazzi E ne con la Transmutation Quindi ragazzi È un bel disastro Se fate questo casino Allora Ok Che ragazzi Mi vado a ricaricare La corrente E torno Eccoci qua Di nuovo Mi siamo dentro Al nether Nether Allora Mi dà l'idea Che qua non ci sono mai stato Sì Voglio attesa Ci sono stato Sono stato Tutto qui Aia Madonna Che male Che botta Allora Lì c'è dei materiali Lì Qui non ci casco Allora Vediamo anche qui Allora Qui si si risale Di sopra Perfetto Quindi si mette Una E una Così Riprende la netherrack Che ora non ce l'ho Dammela E si fa Così Almeno si Rivede Molto bene Ma perché Mi devo sempre fare Tutto Sto male Allora Quindi Andiamo di là Allora Lì non ci casco Abbiamo detto Lì che c'è Niente Ah lì ci deve essere Esplode qualche materiale Allora Allora No Non è finito Nella lava Non è finito Nella lava Quello lì si Allora Carbone Non è finito Nella lava Allora Scusate Madonna Io piglio Sto secchio qua E la lava Se ne dovrebbe andare Tutta No E E Battene via Lava E Il più Altro Mi interessa Che si Levi da qui Ma cosa Sei bloccata Vasta Fine Non puoi andare Da nessuna parte Fine Non ti dai morti Ok Oh Va bene ragazzi Via via Dobbiamo cercare Della soul Della soul Sand Ce ce n'erano Due esplosivi Bello Tipo Anche il terzo Era Sentiamo Oh Redstone Allora ragazzi La redstone È sempre Utile Ragazzi Mi ha giappato i quattro Senza farli esplodere Bello C'ho paura Io ragazzi Che mi esploda Tutto In mano Cioè guardate ragazzi Che non faccio Non faccio un tempo A spegnere il fuoco Che Di già Il mining Driller Spacca il blocco Sotto Bellissimo Allora Non ci vedo niente Ma cosa È Basta ragazzi Esplode Ogni cosa Se mi esplode Anche quella redstone Lì Ma non è più scura No Non è più scura Raccogliamo Guarda davanti Carbone Allora Carlo ma che tu hai chiesto Ma che deve esplodere Non capisco Ragazzi Bo Ma beh Allora Ah Allora Ah Ah Allora la resta non è un po' dei basi ma vai allora ragazzi dobbiamo la soul sand cioè non c'è neanche i ghast non c'è un cavo però è abbastanza bello e questo qui è bello eccola lassù la soul sand e mi sembra di vederci anche l'inferno che vuoi che da me che vuoi che da me aia madonna cosa ragazzi sono ritornato nel nether ho trovato la soul sand però oddio sono questa è ghiaia e niente ragazzi ho ritrovato tutto tranne qualche secchio e il pietrisco e mi sono chiuso qui dentro direi una bellissima mosso quindi c'è nessuno ok possiamo riprendere la nostra netherrack con le nostre torce della glowstone non ne abbiamo bisogno ma volete vedere che questa si scava bene con l'ascia no impossibile si scavi con l'ascia allora preferisco per paccare la mano no oppure con la spada si rompe si ma se la metto in filosofa st niente con la spada si rompe più velocemente madonna dammela qua c'è un bel po' di ghiaia ma non me le importa se sembra strano ragazzi però c'è chi nel minecraft normale c'è il vanilla non va mai nel nether considera questi elementi tipo la soul sand come c'è come quasi fossero elementi delle mod pure in realtà è una roba normale quindi non c'è dubbio che vada sulla crafting table sulla transmutation table inutile farsi tanti dubbi ma la trasmutterà non muore per forza ragazzi è della roba vanilla quindi mentre tipo ad esempio la patite nella transmutation table non ci va perché è della forestry è della forestry e non ci va allora la spada loggia è quasi consumata sono dovuto riparare anche l'elmetta già a proposito voi direte come fare senza una crafting chi non lo sapesse premendo C sulla philosopher stone in mano e ci fa la crafting allora abbiamo preso uno stack e 15 di soul sand allora abbiamo da mangiare si ce l'abbiamo ancora nella nostra routine allora io voglio quasi fare così ragazzi come prima uguale ok guardate cosa faccio via 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 se sono incazzati con me e non c'è problema io mi chiedo qui dentro e li uccido tutti guardate che mose strane con la spada la spada allora te mori dai subito allora oh guardate ragazzi i gold glistering melon why what's this it's not eh dai allora allora 6 gold nugget a casa ce ne avevamo una 7 e 2 glistering melon non si possono mangiare vabbè va bene risfasciamo tutto il cosino qui allora vediamo se qua giù c'è nient'altro perchè se non c'è allora per la soul sand lì non la prendo allora vediamo se c'è qualcos'altro c'è nient'altro c'è un mio amico limone c'è un limone sì limone nel nether eh cosa ci fa voi vi direte lo saprà lui allora ragazzi ci vediamo quei quadratini lì nel mezzo della lava sono molti spetti ragazzi spesso c'è questo è ferro eeeh è ferro allora ragazzi io mi faccio qua che scappare se scoppia mi metto qua dentro ok benissimo non esplodere oh grande ragazzi ferro non è esploduto quante ne abbiamo presi si va bene vanno benissimo allora usciamo e dai allora usciamo di qui perché se quel quadratino lì è molto sospetto eh di solito quei quadratini in quel modo ci sono tipo sotto alla fine ci sono dei materiali quasi sempre ma non lo andiamo a explorare allora un po' di luce ci servirà qua giù guardate quanta lava è un altro quadratino ciao amico ragazzi sto quadratino qua lo andiamo a esplorare eeeh nooo aiuto cosa che cacchio no 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 oh me cosa che brutto amico ragazzi non ve lo consiglio non gliela dare l'amicizia su facebook non ve lo consiglio vabbè ne possiamo anche fare a meno di ucciderlo dai cosa un maiale nudo vietato ai minori non sapevo che minecraft fosse vietato ai minori mi hai cileccato mi hai cileccato mi hai cileccato che bell'attività che ho gettato che ho gettato io quasi quasi guardate io mi chiudo un attimino qua ragazzi per riprendermi allora qui dentro che c'è niente e quindi posso fare quindi allora vediamo di filare questa roba qua cos'è tin no tin o erro era tin ragazzi ragazzi ve lo dico subito io non la so distinguere quelli esplosivi da quelli non esplosivi allora sentite questa specie di fuoco allora dai su esplodi non esplosivi non esplosivi ragazzi sono troppo poco non esplosivi non esplosivi allora adesso io li esco sempre di qui mi sono intrappolato ho finito la corrente ho finito la corrente ragazzi ma dove avevo chiuso io era qui che avevo chiuso scusate ah e cium notare a cium ma cioè ma non è che tipo gli si può ridare corrente in un certo modo a questo vediamo non gli si può ridare la corrente eh si andiamo vai oh carbone no allora adesso volevo andare a esplorare quel quadratino lì se mi butto ci muoio quindi faccio così ahia non intendevo fare questo ma va bene guarda alla fine non ci sono morto allora dove era quel quadratino lì quello lì è esattamente addio ragazzi ho paura di cadere della lava perfetto allora già la morte la morte di prima è stata boh schifosissima allora basta far così non so come dopo potrò ritornare su però vabbè ciao amici voi siete bravi vero? ma non ce l'avete con me vero? facciamo così allora cominciamo subito a scavare va fatto così per quelli così che almeno si guarda se nel blocco di sotto c'è la lava e se c'è la lava siamo dei grandissimi sfighetti sfighetti scusate oddio ragazzi diamanti ragazzi diamanti nether diamonds se qui ci fosse la lava si c'è la lava ragazzi diamanti nether diamonds diamanti diamanti me lo ridai indietro vero? se no mi faccio un piccone aiuto no 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 non ti permetterò di bruciarmeli ragazzi ragazzi speriamo siano sempre vivi dove sono? di bruciarmeli Sì ragazzi Sì ce l'ho uno Sono troppo contento basta Devo avercene 5 ragazzi Però ci pensate che potevo avercene 5 Allora questo mi fa Altamente incavolare Ora mi ritorno al portale Ragazzi Ti devo uccidere Perché sennò dopo mi attacchi Non è che Deve far male amico Giaia madonna Sono i primi mostri del nether Che vedo che soffrono il Fuoco Dove sta Io non sono incontento ora ragazzi Però voglio un altro nether diamond E lo troverò Sì Ragazzi Ed è Con grandissima Felicità che Ne ho trovati Quanti altri sei ragazzi Ho trovato un giacimento uguale a quello che avevamo trovato noi Però quello non è esploso Ragazzi No ragazzi C'è un endermelo Devo uccidere Mi dispiace Dove sei endermelo Oddio Ti aiuto io a morire se vuoi Non c'è problema Non te ne andare Non te ne andare Sì 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 Ragazzi Basta Oddio Oddio Ragazzi Solamente Perfetto Ragazzi Perfetto Dormo un po' per la salute Chiaramente il nitrito del cavallo all'ultimo ci stava no? Allora facciamogli imparare La soul sand Bravissimo 49 I wild nuggets Il mushroom Il magma cream Il glistening melon Gli facciamo imparare Il secchio d'acqua Il secchio di lava vale 832 Il secchio d'acqua Ok E le ender pearl ragazzi I nether diamond set Utilizzo Ma se li mettevano nel maceratore? No ragazzi Oh le vuole Vabbè ragazzi Dai Vabbè Comunque ragazzi Fateci caso 7 diamanti Più Altri 3 diamanti Sono 10 diamanti A noi ragazzi Ci servono Per fare il query Allora Ce ne servono 8 per le rotelle E 3 per questo Quindi 11 diamanti Se trasmuchiamo un po' di roba Ce la possiamo tranquillamente fare Eh ragazzi Che ne dite voi Eh Troppo bello ragazzi Troppo bello sta cosa Dai Allora Ci abbiamo anche le redstone Le mettiamo lì Allora Le ossa Allora I funghi Sì di quanti Ma guardati Smettiamo le ossa Non stavano qua Le Chi ci vuole Ah no niente qua Queste Queste Il secchio qui è mio E non ci va Ok Ragazzi Non vi potete immaginare Quanto sono felice 7 diamanti 7 diamanti Ragazzi 10 diamanti Quanto vale la clay? 64 Per 64 Fa 4096 C'è un oro E di Si vuoi quanti Enderpearl? Ragazzi 5 Enderpearl C'è La tin La tin Se poi una la bruciamo Cosa ci vuole dare Ender? Ferro Allora Un golden nugget Ce lo prendiamo subito Scherzavo Non ci serve a niente Ci mettiamo dentro quello Allora Ci bruciamo 2 3 Sì Ci vai Allora Ah proprio L'acqua nel nether Non si può pianzare Non so se ve lo ricordate Vabbè Qui si piglia La batbox E si scarica un pochino Se non fa niente Allora 3 abbiamo trovato 10 ferri Quindi 20 ferri Abbiamo trovato Abbiamo trovato 19 per 3 Redstone Altra tin Tin Che bello Poi ci abbiamo Del copero E del carbone Allora Questo Sono tutti cotti Sì Redstone Ferro Questa avevamo detto Non si fosse Va bene ragazzi Niente Noi Noi ci vediamo Nel prossimo episodio E Non torno Quanti materiali E Ciao a tutti Eh Lapislazzi Non li abbiamo Fatti imparare Unisperto Noi ci vediamo Unisperto Unisperto